Ciao a tutti da Saludatore, direttamente dal Music Day ormai è un evento, come possiamo dire, consuetudinario, che non si può manchiare, ecco a voi il casissimo Davide Marconi, eccolo qua. Allora vi aspetto il 17 all'Istituto Francese del San Miuin per un evento storico, al di là della proiezione del film interpretato da Fabio Teschi, che uscirà dal grande fratello per raggiungerci, e ci saranno tanti tanti personaggi, quindi ci sarà Franco Nero, quindi ci sarà il grande Sartana, Alias Gian Riccardo, e qui Enzo Castellari, Romano Pellieri, Ruggero Deodato e tanti tanti altri. Forse i fratelli di Angelis, anche qui a Maurizio, ma così non riusciamo a fare questo video. Mai dire mai, perciò non manchiate, seguite le sue pagine, ovviamente, febbraio, ricordiamo. Ma alle 20 inizia la proiezione e alla fine offrono una... Ecco, perciò loro non verranno per il corte, ma bensì per la vera sostanza che ci porti. Io ti ringrazio e salutiamo tutti quanti. Ciao!